Ergastolo per tre dei quattro imputati e 27 anni di reclusione per esposito e questa è la richiesta di condanna da parte del Pubblico Ministero Erika Masetti per i quattro imputati per l'omicidio di Donato Montinaro. Ritengo si possa affermare la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, al di là di ogni ragionevole dubbio. Per la Martella Angela chiedo la condanna alla pena dell'Ergastolo con isolamento di urno per la durata di anni 1, oltre pene accessorie come per legge. Per la Piccini Patrizia chiedo la condanna dell'Ergastolo con isolamento di urno per la durata di mesi 18, oltre pene accessorie come per legge. Per Forte Emanuele chiedo la condanna alla pena dell'Ergastolo con isolamento di urno per la durata di anni 1, oltre pene accessorie come per legge. Per esposito Antonio chiedo la condanna alla pena di anni 27 di reclusione, oltre pene accessorie come per legge. Una rapina finita male sfociata in un violento pestaggio che avrebbe portato alla morte dell'anziano. La solitudine all'origine dell'evento, l'uomo infatti per colmare i propri vuoti avrebbe cercato più volte compagnie femminili occasionali, ricerca che lo avrebbe esposto agli interessi di malintenzionati venuti a conoscenza della sua mania di custodire denaro contante in casa. Non ci sarebbero dubbi, secondo l'accusa, la morte dell'anziano sarebbe stata causata da un'azione collettiva, un omicidio volontario secondo la PM, aggravato in concorso 3-4 che avrebbero agito con crudeltà e ferocia nella totale indifferenza, accettando quindi anche il rischio evidente della morte della vittima. Nessun segno di pentimento inoltre durante la fase processuale, ad eccezione dell'esposito che ha chiesto scusa alla sorella del Montinaro stesso e che successivamente al fatto criminoso avrebbe chiesto ai complici di tornare indietro per liberare l'uomo. Si torna in aula il prossimo 7 maggio con la parola agli avvocati difensori e poi sarà il presidente Pietro Baffa a emettere la sentenza.